Obiettivo per l'imprenditoria fiorentina è tornare ad essere un polo industriale competitivo e questo è possibile se si comincia dalla formazione che deve puntare all'eccellenza. È finito il tempo della reddita, pertanto dobbiamo tornare ad essere quello che a metà degli anni 60 come territorio fiorentino ma più in generale la provincia di Firenze è stato, era il terzo polo industriale d'Italia. La Camera di Commercio svolge un ruolo, ritengo, primario insieme a altri soggetti della realtà fiorentina nel sostenere e nell'implementare corsi di studio in tre in particolare modo eccellenze della nostra area. Uno è il Polimoda, l'altro è la Scuola di Scienze Aziendali e la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali. L'obiettivo è di formare una giovane generazione su tutti i profili professionali che la moda offre. Vogliamo che i nostri ragazzi che studiano da noi hanno una visione personale quando escano del Polimoda. Cosa vuol dire? Essere opinion leader, avere un'opinione e per quello dobbiamo essere abbastanza informati anche noi, anche la nostra faculty deve essere informata in rivoluzione della moda, la comunicazione della moda eccetera. Più di 80% dei nostri ragazzi trovano lavori dopo aver fatto un stage da noi. Questo è un plus incredibile perché sappiamo che la nostra didattica funziona. La Camera di Commercio di Firenze 27 anni fa ormai ha investito sulla Scuola di Scienze Aziendali sulla base della qualità della formazione. In particolare giovani, 18-28 anni, per le piccole imprese del territorio, che hanno questo problema incredibile a prima vista. Ossia cercano personale, soprattutto in termini amministrativi, di organizzazione aziendale, commerciale, con un ottimo inglese e non lo trovano secondo le loro necessità. Quindi ci sono posti vuoti. È un elemento importante su cui riflette la Scuola di Scienze Aziendali. Formano giovani per il lavoro. Ad oggi svolgiamo più di otto diversi percorsi formativi in tecnologie industriali, web design e tutto ciò che riguarda le tecnologie ITC. In più abbiamo aggiunto anche una linea formativa in start-up, cioè in gestione di nuove aziende, legata al ciclo dell'incubatore tecnologico, che è sempre una dell'attività della scuola. I numeri sono importanti perché noi siamo in grado di poter offrire ad oltre 450 allievi più di 3.500 ore di formazione durante un anno. Siamo in grado di poter fare oltre 30.000 ore uomo stage, vale a dire che noi poniamo più di 800 stage, quindi in relazione con le aziende. In più siamo sede anche dell'ITS Prime. Grazie. 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 Grazie.